La base è sotto attacco. Tutti i Gears ha i posti di compatimento. Ripeto, tutti i Gears ha i posti di compatimento. Avanti! Allarme rosso, Gears! Allarme rosso! Forze nemiche in arrivo alla meta, forma sud! Omenidi! Dietro! Omenidi! I posti di terra! Omenidi! Dai! Cavolo, hanno un Raven! Chiari umani! La vita! Tornatene sottoterra! Fui capace di fuori nella ricerca da forma del cavallo sud! Hanno segnalato altri raffreddini basso! Attenzione! C'è un Reaver 2 a questa forma su! Va bene! Grazie per il supporto, 3-6! Avanti! Avanti! Cremici in arrivo! Muoversi! Aspettate! Arrivano altri! Antiterra! знов are andremo ricordi! Io! Arrivano! TR4-9! Ci siete? Tipo? Rispondete! ... 4-9 abbattuto! Controllo! 4-9 abbattuto! Tecchato! Ricevuto! Assussed Tate! Attenzione ai River lungo il periodo Itro Sud e Ovest! Abbatteteli prima che arrivino qua! Granata! Muori, umano! Pronto a combattere! Ricevuto 3-2! Delta, dovete andare subito all'entrata a ovest! Prendete posizione sul lato sud! Ricevuto controllo, ci muoviamo! Batti terra! Siamo nei guai qui! Ci serve aiuto! Ci serve... Occhio, ci sono dei verbi sulla destra! Alla macchina! Muori, umano! Sto avanzando! Un verme è andato! Controllate le macchine! E' pieno di verbi laggiù! Occhio! 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 Ci hanno colpito! Abbiamo perso i controlli laterali! Dannazione! Quella situazione sta andando a puntane! Dammi retta! Ce la puoi fare! Usa la torretta! Veneteli lontani! Non possiamo perdere il satellite! Esergete le locuste hanno sfondato l'ingresso principale! Ricevuto, arriviamo! Controllo, il sistema di comunicazione è al sicuro! Andiamo all'entrata principale! Ricevuto! Non devono entrare nel comando! Controllo! Qui ci serve subito il supporto aereo! Mi spiace, colonnello, ma ora non abbiamo unità! I Raven stanno evacuando i cittadini o si preparano al bombardamento! Ehi, colonnello! Mi sa che siamo noi il supporto, giusto? Sembra proprio così, sergente! Diamoci una mossa! Batti terra! Alla macchina! Troppo brutto per vivere! Deve far male! Troppo brutto per vivere! Troppo brutto per vivere! Guarda! D'Ulul, muori, umano. Dietro al muro! Capito. Capito. Oh crap. Caldo, c'est un vrai bastien. Gata muori, umano Grande Brumac A me sembra morto Pronto a combattere Controllo, l'entrata principale è al sicuro Stiamo tornando, Delta chiudo Allora, come siamo messi? Abbiamo un piano Ma non sarà facile Abbiamo scoperto una caverna vicino al cratere delle locuste Se riusciamo a piazzarci una bomba solare Jacinto potrebbe sprofondare definitivamente Dov'è la fregatura? Data la presenza di Cedar e Nemesis Non possiamo mandare un elicottero a sganciare la bomba Qualcuno deve ripulire la zona E quel qualcuno siamo noi, giusto? Baird, Cole Date una mano con la bomba solare Dom Mi sa che dobbiamo tornare là sotto Grazie a tutti.